E do la parola, mi sembra, proprio a te, al professor Alessandro Lannicosta, che parla di organi, cellule, tessuti, dono e gratuità. Quindi, in perfetta continuità. Io mi associo all'applauso a Paola Binetti, veramente, per i principi e anche il modo con cui sente queste cose. Io cercherò di dare, di dividere queste parole in due parti. Nella prima parte vorrei ripercorrere, forse in maniera un po' più laica, alcuni ragionamenti sul dono. E nella seconda parte, invece, dire quello che è la realtà del dono e le problematiche del dono nel nostro Paese. Vediamo se riesco in pochissimo tempo. Intanto definisco, parlando in maniera meno, diciamo, anche colta, se vogliamo, in maniera più diretta, quello che è il limite che noi ci dobbiamo dare, il piave, il paletto. La donazione deve essere anonima, libera e gratuita. Questo è il principio base ed è il principio chiave su cui si richiamano tutte le nostre azioni. E poi l'altra definizione importante è che la donazione non è un contratto e quindi vediamo un donare libero, assolutamente a differenza di un dare che invece aspetta sempre un'attesa. Quindi donare significa consegnare un bene nelle mani di un altro senza ricevere alcun che è in cambio. Questo è il punto chiave da cui ci muoviamo. I riferimenti, dai riferimenti classici, da Virgilio, che nell'epoca classica il dono non era particolarmente di moda, timeo d'anaus et dona ferentes, e il dono invece compare in maniera completamente diversa nella cultura cristiana, dal donare che è più gioia che ricevere, ed è San Paolo, ma delle immagini teologiche che abbiamo chiarissimamente nella risurrezione che è il dono della vita e anche nella distribuzione del pane all'ultima cena. e non mi fermo su questo, anche se credo che dovremmo anche al nostro interno lavorare un poco di più su questi concetti, magari chiedendo anche alla Chiesa che ci dia più una pastorale del dono, oltre che a una teologia del dono. Tornando invece più direttamente al nostro argomento, io credo che dobbiamo anche immaginare, per capire quello che è il dono oggi, immaginare quello che era il dono come bene sociale, che è una dinamica che parte agli inizi dell'Ottocento e del Novecento con i benefattori, e che ci porta in qualche modo al dono come bene pubblico, e in questo caso il dono biologico, come interessa a noi, come bene pubblico. Quindi bene pubblico che deve essere governato come bene sociale, ecco allora anche un ruolo delle associazioni di lavorare per il governo e per la facilitazione che c'è tra portare il dono dal cittadino alle istituzioni, ma un obbligo per il governo di garantirlo, e all'articolo 32 della Costituzione, il diritto di garantire il dono agli indigenti. E su questo punto dobbiamo cominciare a pensare, perché molte correnti fra di noi tendono a negare il dono agli indigenti. Immaginiamo il problema della donazione degli organi ai migranti o agli irregolari, perché essendo gli organi un bene scarso tendiamo a dire l'organo solo a questi. Vi dirò dopo che cosa sta arrivando in Europa rispetto a questo, mentre noi crediamo profondamente che il dono vada garantito agli indigenti. E quindi accettare nelle nostre liste di attesa chi è irregolare o perché ne ha bisogno del dono è una cosa costituzionale, non è togliere un diritto o togliere gli organi ai cittadini, diciamocelo con grandissima chiarezza a questo punto. Perché se cominciamo a mettere dei paletti qua, poi ce li andiamo a ritrovare da delle altre parti. A proprio in termini di commerciabilità. Quindi la gratuità rimane un punto fondamentale ed è garantita per gli indigenti. E adesso vorrei, tenendo conto anche di quelle che sono delle esperienze importanti nel dono, quindi anche il dono come mettersi a servizio degli altri, donare il proprio tempo, ma anche un dono biologico che va al di là di quello che pensiamo che è il sangue e gli organi, per esempio un bellissimo esempio che sono le banche del latte, che sono una forma da promuovere e da seguire di danni come il cordone ombelicale, come la donazione di ciò che è utile per la società e che, come ho detto prima, richiede il governo. E passerò adesso a quelli che sono invece un poco i dati sulla donazione nelle nostre realtà. E parliamo della donazione da cadavere e da vivente, dopo pochissimi numeri. In Italia si dovrebbero fare quest'anno circa 3.900 trapianti. Siamo vicini alla soglia dei 4.000 trapianti che con dei organi, intendo, che con 9.000 pazienti in lista di attesa cominciano a essere una buona percentuale di risoluzione della lista e noi trapiantiamo circa l'80% dei pazienti che entrano nelle nostre liste di attesa. Dei trapianti di rene che sono in crescita e sono più di 2.000, i trapianti di organi donatori, nei trapianti di organi cresceranno più del 15% rispetto all'anno scorso e arriviamo ormai a livelli di donazione. Tra i grandi paesi ormai dovremmo essere pari alla Francia. Quest'anno è secondi solo alla Spagna e cominciando anche tipi di donazione, come la donazione di organi dopo l'accertamento a cuore fermo. Quindi con un sistema che diventa sempre più complesso ma che offre sempre più possibilità. Qualche altro numero, i donatori da vivente di rene saranno circa 300. Qualche unità i donatori di fegato da vivente, ma anche qui c'è un'azione dell'aumento del trapianto da cadavere che indubbiamente in qualche modo riduce o limita un poco queste necessità. Abbiamo in Italia oltre 15.000 trapianti di tessuti, vengono fatti oltre 5.000 trapianti di staminali immopoietiche, dei quali più di un migliaio, 800 da donatore da registro, chiamiamolo così, e diverse centinaia da donatore familiare, ormai con la possibilità che aumentino le donazioni di staminali immopoietiche da quello che viene definito donatore semicompatibile. Leggi il genitore, la maggior parte dei figli o qualche altro parente. E quindi ormai il problema del donatore, del ricevente che non ha più nessuna offerta di donatore, il malato la cui ricerca e il donatore non ha risposto, ormai comincia certamente a ridursi in modo notevolmente sensibile. E questo è grazie alle donazioni, grazie anche ai, lo dico, 500.000 donatori da registro che abbiamo e avremo in Italia. 500.000 non è poco. Quindi partiamo da delle buone basi e sotto questo aspetto abbiamo attenzione. Nuovamente, allora uno dice, ma perché questa situazione dà problemi? E perché abbiamo delle necessità di riflessione sul corpo umano e sulla gratuità? Perché sulla gratuità della donazione di tessuti bisogna riflettere? Perché se in Italia, grazie a questo governo, grazie a questo ministero, la donazione dei tessuti è assolutamente gratuita, abbiamo ottenuto rispetto al tema della donazione dei gametti. Perché abbiamo altri paesi europei nei quali, pur partendo dalla stessa base, la donazione dei gametti è in qualche modo consentita. E qui c'è tutto quel grigio dei rimborsi a cui faceva parte Petrini. Ma è chiaro che se io devo prendere 1.000 euro per la donazione di un'ovocita, io lo dono. O se devo prendere 100 euro a ogni donazione di sperma, come succede in Danimarca, io lo faccio. E non sono quelli a questo punto rimborsi. È chiaro. Noi in Italia abbiamo escluso questo tipo di attività. E io credo che sia un segno importante, pur dando chiarezza rispetto al tema della fecondazione, come è consentita dalla legge, perché non è vero che non è stato fatto questo. Abbiamo però, rispetto al tema della donazione, posto dei limiti che devono essere rispettati. Perché sono il principio fondamentale delle donazioni. Perché se si rompe lì, poi c'è una catena che va avanti. E uno dice, ma questa catena c'è sugli organi, abbiamo delle vendite di organi in Italia? No, delle vendite di organi in Italia. Il sistema italiano dà delle garanzie. E anche in buona parte i sistemi europei danno delle garanzie. Perché nessun chirurgo può andare a cercare gli organi. Il chirurgo deve intervenire sugli organi che la organizzazione gli ha offerto. E questa è la principale garanzia che il trapianto non può avvenire. E anche sul trapianto da vivente abbiamo un sistema molto attento. Don Renzo lo sa, perché collabora a questi sistemi delle parti terze. Quindi di chi deve valutare che c'è, oltre all'azione che fa il giudice previsto dalla norma italiana, che c'è gratuità e consapevolezza tra il donatore e il ricevente, sentendoli separatamente che c'è equilibrio anche nella mente del donatore ed è la stessa cosa che facciamo con i donatori samaritani. Quindi abbiamo un sistema di controllo. Allora nessun rischio? No. Perché dobbiamo dire che alcuni sistemi esistono. Faccio l'esempio dell'Iran. Nel sistema dell'Iran l'allocazione è gratuita? Sì. La donazione, anche il trapianto è gratuito? Sì. Ma il ricevente riceve una somma per donare gli organi. Lo riceve pubblicamente. Ma è chiaro chi darà e chi cercherà quella somma? La cercheranno le persone che sono più fragili, le persone che ne hanno bisogno. E quindi usciamo in omaggio a un teorico principio terapeutico, usciamo dalla logica della gratuità ed entriamo in pieno in una logica della contrattualità. Ci sono diversi movimenti negli Stati Uniti che di volta in volta hanno riproposto la reimbursed donation, la donazione rimborsata con diversi vantaggi per chi doveva ricevere. E abbiamo recentemente, ci sono degli articoli pubblicati sull'American Journal of Transplantation e c'è una recente review delle ultime settimane di un progetto chiamato GKE Global Kidney Health Change nelle quali un ricevente di un paese povero può ricevere l'organo negli Stati Uniti purché un donatore da lui ritrovato o identificato doni a un paziente iperimmunizzato e intrapiantabile degli Stati Uniti. C'è libertà? C'è gratuità? Laddove io devo trovare per la mia cura e la mia salvezza un ricevente da vivente, prima o poi lo trovo. E diventa difficile immaginare che questi siano anche modelli per lo sviluppo della trapiantologia nei paesi che ne sono oggetto. Il progetto è presentato su articoli pubblicati dell'American Journal of Transplantation del 2017 dal gruppo di RIS, quindi sono ritrovabili e citabili e c'è un premio Nobel che sostiene, Alvin Roth, pubblicato anche questo, che sostiene che grazie al risparmio degli anni di dialisi si riesce a finanziare il trapianto del paziente filippino, non solo il trapianto del paziente americano, ma anche il trapianto del paziente filippino e la cura del paziente filippino. L'American Journal ha un review recente che dice che gli si riescono a dare anche diverse migliaia di dollari dietro perché hanno accettato di fare questo. Quindi vediamo che questo termine della gratuità e della libertà del dono non sono qualcosa di scontato, non sono qualcosa di matematico, ma sono qualcosa che deve incidere profondamente sulle nostre coscienze e che deve diventare, lo ripeto, un patrimonio pubblico. Deve diventare un gesto di solidarietà comune, non tanto un gesto di amore speciale, ma un gesto di solidarietà necessario che deve essere governato dal sistema e la Costituzione sugli indigenti è chiarissima, ma è chiaro che l'offerta di un bene raro, di un bene importante, raro in senso lato, ma scarso per quanto riguarda gli organi, deve necessariamente essere governata e controllata. Credo che ci sia un apporto delle associazioni e una responsabilità delle istituzioni che va fatta. Allora i principi, le zone grigie di cui parlava Carlo prima, non sono principi astratti, sono concretezza che noi dobbiamo cogliere quotidianamente e che dobbiamo difendere nella società. La società ha sempre più bisogno del dono. Dire che ci sono delle malattie che curiamo solo con gli organi è tuttora drammaticamente vero, ma è quasi una limitazione, ovviamente è vero. Noi dobbiamo tenere il dono come valore sociale dalle banche del tempo, alle banche del latte, perché proviamo anche a ragionare su qualcosa che sia anche un attimo al di là delle nostre funzioni. Non entro nel termine del sangue, di cui parlerà Giancarlo adesso, ma intendo dire che il dono gratuito e anonimo rappresenta, ho apprezzato molto quello che ha detto la dottoressa Tamburrini prima sull'anonimato del dono. Io non devo avere attese quando dono qualcosa e se dono un mio familiare devo essere vagliato sulla gratuità di quello che sto facendo. Sono passato a dei termini forse un po' più concreti e un po' più pratici, però ho cercato di dare un po' un'attuazione e una verifica senza dimenticare i principi delle problematiche che oggi stanno in Italia dietro a questo. Grazie a tutti. Vorrei anche approfitto per ringraziare il personale che era nostro e del CNS che ha fatto segreteria all'ingresso. Un grazie sentito a chi aiuta sempre il lavoro. Grazie.